Ha raccontato di aver sparato verso terra per difendersi e mettere in fuga i suoi aggressori Vincenzo Anzalone, 35enne di Baronissi ritenuto responsabile dell'omicidio di Vincenzo Salvati e del ferimento di Aniello Califano, ha fornito la sua versione su quanto accaduto venerdì sera dinanzi alle palazzine popolari di Corticelle a Mercato San Severino, il presunto assassino al culmine di una lite presumibilmente legata a motivi di droga, ha premuto sei volte il grilletto, tre proiettili hanno raggiunto alle gambe salvati, uccidendolo sul colpo altri tre hanno ferito gravemente Califano che è riuscito a scappare in auto prima di perdere i sensi per l'eccessiva perdita di sangue, il 38enne di Siano è ricoverato in prognosi riservata all'ospedale di Salerno, le sue condizioni sono stabili, le indagini avviate dai carabinieri della compagnia di Mercato San Severino e dai colleghi del comando provinciale di Salerno hanno permesso subito di stringere il cerchio attorno al presunto responsabile, Anzalone infatti già è nottata, ha deciso di presentarsi in caserma insieme al suo avvocato Michele Sarno, il 35enne di Baronissi si è attivato anche per consentire il ritrovamento dell'arma una pistola calibro .357 Magnum che è stata sequestrata, poi ha raccontato la sua versione che ora è al vaglio degli investigatori, nelle prossime ore Anzalone comparirà dinanzi al giudice, mentre il medico legale incaricato dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore effettuerà l'autopsia sul corpo della vittima.